Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 2 febbraio. Le quotazioni dell'olio extravergine di oliva si stanno stabilizzando tra i 9,50 euro e i 10 euro chilo, franco partenza e senza intermediazioni. Si sta delineando il seguente quadro. Un equilibrio tra la diminuzione delle quantità di prodotto venduto nella grande distribuzione e le limitate scorte esigibili presso gli operatori di settore. Un allineamento dei prezzi dell'olio extravergine italiano con quello comunitario. E di conseguenza un orientamento del consumatore verso il prodotto italiano. La nuova produzione olearia è in fase di certificazione. I valori medi sono superiori ai 13 euro chilo. A gennaio 2023 l'olio extravergine di oliva a denominazione DOP e IGP valeva 9,93 euro chilo. Quest'anno vale 13,11 euro chilo. Mercati esteri Consolidamento delle quotazioni anche per i mercati esteri fiduciosi di superare questa seconda annata anomala nella quale nessun paese ha prodotto per la propria autosufficienza, nemmeno la Spagna. Va pure considerato che Turchia e Marocco hanno chiuso le frontiere per soddisfare la domanda interna. Non si esclude che in un prossimo futuro il commercio dell'olio extravergine di oliva possa guardare verso altri paesi come il Sudafrica, l'Australia e l'Argentina. Ringrazio per la cortese attenzione e coloro che hanno condiviso il nostro notiziario video. Vi do appuntamento alla prossima settimana.